Ciao a tutti ragazzi, sono venuti in questo episodio del Solo Games Siamo qua nella mappa Perfetto Nella mappa Moonbase 9 Sto registrando dopo la Sto narrando dopo la partita Poco dopo per fortuna Sì, perché ho sbagliato a registrare Ovviamente No, però comunque è stato anche un bene perché laudy si sentiva male E no, niente, comunque Ho giocato con Ale Sì, io ho giocato con Ale e Tom era qua di fianco E quindi questo video lo vedrete anche nel suo canale Però con l'audio vero Quindi se volete vedere l'audio vero andate nel suo canale Sì, perfetto Tu stai giocando senza neanche Cosa? Con i tasti pronto a giocare Sì, infatti Niente, qua ora lui prende subito Una spada di pietra se non sbaglio E lui chiaramente vi dà l'arma E quale arma può essere mai se non una Budenax Sì, è infatti Comunque la spada in legno Sì, comunque E poi qua prende la spada in pietra Sì E a me dà la spada in legno Sì, con un palito E comunque questa partita la facciamo anche per rispondere Seguimi, seguimi Perché c'è un tizio che ha detto che praticamente Sì, che io non faccio più video con Tom Non è vero, semplicemente non Non ci troviamo con i tempi Ecco, bravo E quindi non riusciamo a registrare decentemente Comunque ora ha lasciato pure Pelafeco Che sarebbe un tizio che ha killato Ale nella partita precedente No, Ale ha killato No, lui ha killato Ale No, ma se Ale Al deathmatch Al deathmatch L'ha killato Ah, già è vero che ha vinto Ha fatto il figo con la spagna Ma è un figo Figo E poi l'ha messo tutto nel culo Comunque Qua Andiamo di qua E c'è Ale che praticamente ora si muta, no? Però sbaglia a mutarsi E quindi sta per due minuti senza parlare Parlando Però senza dire niente E mi sono messo a ridere dopo quando mi ha detto Ma io stavo parlando E si è mutato Qua Vedete ora che mi dà quella Quei golden leggings Quei golden leggings Lui mi ha detto praticamente Dai Vieni qua a prenderli Però chiaramente io non lo sentivo Quindi Vabbè Cazzate a parte Siamo qua in questa base Della nato Non c'entra niente Nato Mi sembra il yuk Qua trova la chest migliore Sì, qua trova la chest Sì, però Sì, appunto Però Questa chest qua l'ho trovata Un po' inutile Perché mi ha fatto soltanto dei piedi stupidi Vabbè Sì, ma anche una spada E una golden Eh, vabbè Sì Poi Chiaramente qua Ora si 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 Rismuta Il deficiente Vabbè Si smuta Non si 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 Sera mutato prima Ah, già Vabbè E E E Niente Qua trovo Un'altra chest buona Con un'altra golden Sì, infatti LOL Cosa assurda Non so perché E Tra l'altro Eh, frecce e arco Sto per dire farco e recce Ma fai Ma fai niente Tratteniamoci Ecco qua si Si è smutato proprio Esatto Proprio in questo momento Cioè Cioè Due minuti proprio D'arri stato Madonna È un genio E niente Ora Come vedete ci sono anche sette attributi Perché siamo partiti In dieci E tra l'altro C'era anche Sì C'era anche Oida Resort All'inizio Quindi Cioè perché io Mi sono preso Uno spavento Dice No Cazzo E delle resort Poi però Ho visto Un baseline con 10 persone E ho detto Cazzo Questa la vinco Di sicuro E ora qua Faccio il deficiente Cioè Non riesco a salire Perché C'avevo i Cazzo il coglione Bravo E no Qua invece riesco Sì basta E in questo momento Continua a ripetere Basta Sì sì Infatti Si sta riferendo a COD Lasciate stare COD Non COD COD Sì COD of Duty Ma la cosa epica È che Voi sentite Tom Commentare Lo stesso video Due volte Sia sul canale Di reale Sia sul canale mio In due modi diversi Qua lui Ha fatto da cosa Tom L'ha fatto Ha visto quel tizio Ha visto quel tizio Ma come da Lontanissimo Senza zoom Io Quasi Quasi con lo zoom Non lo vedevo E lui L'ha visto Lui dopo Sì Come cazzo ha fatto Cioè È proprio assurdo Qua lo riesco a killare Eppure bene No anzi dopo No No forse l'ho killare Lo killare Lo killare Sì Se non sbaglio Sì L'ho killare Ora vabbè Ora No 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 Lo killo io Lo killo io E c'è pure la spalla di ferro Sì Ora vi faccio Quasi full iron E c'è anche Il materiale per fare la spalla di ferro E ci sono quattro persone E ora Tra poco Capiterà La cosa secondo me migliore Di questa partita Perché Mi è piaciuto molto Quello che ho fatto io Ora Ora vedrete Allora Sì ora ci stiamo un po' Risistemando Come al solito Però Chiaramente È un po' noioso Ma perché Sì no Perché se voi Vedevate in live Scleravamo tutti e tre Tipo Continuavo a dire Sì Poi Poi c'è Ale Che dice Ebreo a Tom Quando Tom Non è ebreo Vabbè Non è ebreo Non è ebreo Luce Però C'è il padre ebreo Quindi Vabbè Lasciamo stare Qua vabbè Siamo rimasti Appunto in quattro E Al genio Viene la brilante idea Di andare Nelle ceste là Nelle doppie ceste là Perché chiaramente Non è che le hanno già aperte No No Quindi il genio va E qua succede la cosa Secondo me migliore di questa partita Dopo Dopo Poco dopo Sì Ora Praticamente Dopo Lo avvisi Sì E guardate qua Brucio E lui E lui brucia Secondo me È la cosa migliore Perché Ale Ale è un genio In questa partita È proprio stato un genio Io poi Lo Lo becco due volte qua Una e due E forse tre Sì forse tre Tre Però ce n'è anche Un altro Che adesso Io Io Mi incazzo E c'è Ale Che cosa stava dicendo Stava sistemando il volume Del microfono Che tra l'altro Non serve un cazzo Perché voi state sentendo me adesso Ora io Io cosa faccio Chillo questo Però La spada di diamante La prende l'altro Per fortuna Lo Lo inseguiamo Ora E Ora Vedete cosa succede Praticamente Adesso Vedrete La scena migliore Sì sì Epico Epico Praticamente No vabbè È esagerato Sicuramente Ora Mi killa Sì vabbè Ora mi killa Cioè No cosa sto dicendo Ora Mi Fa un casino Di danno Io con la colta La mangio Recupero vita Quindi Sto A posto Proprio Io cerco di farle frecce Ma non posso E ora Guardate Cosa succede Ora Ma Manca anche poco È stata la cosa Sì 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 Epico Allora Vado di qua Madonna Lui mi cerca di bruciare Non mi brucia Brucia Ale Poi brucia te Sì Poi No Sì poi brucia me Io killo questo No Ale muore Di farmi Tu killo Ale muore Perché 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 Per Il fuoco Io killo l'altro E vinco Quindi È stata la printa più assurda E ciao a tutti Ragazzi Ragazzi Fappo Grazie a tutti